Ciao! Come potete vedere, io e Skipper stiamo facendo la sfida delle cuffie! Ehi, lo sai che stai parlando a voce altissima? Cosa? Non riesci a sentirmi? Prima io parlo, poi tu ascolti e dopo rispondi, capito? Può darsi! Perfetto! Lei non riesce a sentire niente, per cui andrà tutto bene. Prima domanda, io come mi chiamo? Oh, rugby! Vai alla grande! Qual è il tuo colore preferito? Il mio frutto preferito è l'anguria! Chi è la tua sorella preferita? La mia maestra preferita è la signora Williams! No, no, no! Chi è la tua sorella preferita? Oh, il mio cane si chiama Tuffy! Ok, ultima domanda! Chi è il tuo personaggio famoso preferito? Il mio... il mio cosa? Ken! Ferma, ferma! Aspetta, aspetta! Che cosa ho detto? Troppo tardi, ormai l'hai detto e l'hanno sentito tutti! Ho detto che Ken è il mio migliore amico! Che cosa mi avevi chiesto? Pace! Oh, no, 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 niente Pace! Non c'è!